Ciao a tutti ragazzi, io sono Zayn e benvenuti in questo nuovissimo video dello snapshot Siamo nello snapshot 21V20A e tra l'altro guardate sono spawnato su un'isola, o meglio due isole quindi bellissimo per fare lo snapshot così isolati ma prima di iniziare col 21V20A, no, non vi stavo chiedendo di mettere un like ma adesso che ci penso fatelo però prima del 21V20A parliamo del 19A, giusto brevemente perché se avete notato non ho fatto uscire nessun video non perché non avevo voglia o non potevo semplicemente perché ragazzi era veramente uno snapshot minuscolo infatti l'unica cosa che cambiava era che da Java 15 si passava a Java 16 per chi non sapesse cosa vuol dire, in pratica semplicemente cambiano le librerie si ampliano le librerie del linguaggio di programmazione di Minecraft, tutto qui e per il resto ragazzi addirittura sono state tolte delle cose nello scorso snapshot infatti se potete vedere adesso nella redstone non abbiamo più lo skulk infatti lo skulk sarà ottenibile solamente adesso tramite il comando e si l'amo è stato ucciso, non facciamoci caso e quindi tramite il comando give potremo prendere il nostro skulk sensor perché effettivamente Mojang si accorta che non era ancora pronto per essere rilasciato e ce ne andiamo un attimo via da queste tartarughe semplicemente perché ragazzi dobbiamo parlare invece del 21V20A che stavolta ha qualcosa in più di feature veramente sempre piccolezze però state connessi per sapere tutto quanto la prima cosa è quella che adesso prenderò la mia bellissima zappa e possiamo vedere qua della semplice terra brulla che come potete vedere può essere zappata quindi la terra brulla diventa terra normale poi può essere zappata senza che debba per forza essere questa qua verde come sappiamo che era così ragazzi da sempre e dovevamo sempre aspettare che la terra diventasse verde mamma mia che rottura finalmente con la 1.17 sappiamo che non sarà più così e però con la zappa è stata aggiunta la novità infatti se vedete questa non è normale ta brulla bensì è proprio quella con le radici che troviamo sotto le azalee adesso facendo tasto sinistro diventa terra brulla e come vedete abbiamo le radici pendenti che ci vengono date quindi quelle che possiamo trovare sempre nelle Lush Caves e così possiamo insomma disinfestare questa terra e farla diventare poi piano piano sempre ecco da così poi diventa zappata e a posto qual è l'unica cosa che vorrei dire riguardo di questo che in realtà fatto giusto così non ha molto senso mentre ragazzi quello che vorrei che magari non so a Mojang viene un'illuminazione magari se qualcuno riesce a condividere questa idea è quella che la terra normale piazzata invece che diventare terra verde possa diventare magari anche terra brulla e da terra brulla possa diventare terra con le radici insomma un modo per tra virgolette diciamo infestare possiamo dire così l'erba non perché adesso vogliamo tutti l'erba infestata però sarebbe carino che magari così almeno uno una volta al mese andrà a togliere con la zappa tutto quanto e poi far crescere l'erba giusto così poi ragazzi fatemi sapere la vostra però secondo me sarebbe interessante e poi tra l'altro ho degli Axolot perché adesso come potete vedere sono in modalità pacifica e se stessimo qui anche ore i Lama non mi scuteranno mai neanche se gli dessi una botta e quindi loro si arrabbiassero questo semplicemente per rendere la modalità pacifica ancora più pacifica di quanto si potesse tutto qui ma ci sono anche degli altri mob che cambiano e sono proprio gli Axolot infatti qua sperando stavo dicendo sperando che non siano scappati ma vedo che bene eh io dovevo fare il video e grazie mille dicevo ora abbiamo questi due Axolot e cos'è che cambia? semplicemente ora dunque voi sapete che allora adesso stavo per fare una cosa voi non fatelo a casa no seriamente niente violenza però è per farvi la dimostrazione adesso se io questo qua lo picchio no? lo picchio tanto mi dispiace però devo per la scienza in pratica dopo un po' sappiamo che gli Axolot ecco vedete sta andando in rigenerazione vedete che fa quelle bollicine se non avete sapete di cosa parlo vi lascio qua in alto il video che vi spiega tutto quanto dove ragazzi veramente spiego tutto al meglio quando sono usciti e quindi possiamo vedere che ma poca vita si rigenerano mentre adesso ragazzi se io questo qua lo continuassi a picchiare lui non andrà mai in rigenerazione questo perché non è vicino all'acqua infatti vedete se io gli lasciassi andare lui vuole subito tornare in acqua un po' come gli Strider che vogliono essere nella lava in pratica quindi lui vorrà assolutamente tornare in acqua e finché non sarà in acqua non si potrà rigenerare poi penso che se adesso io scusate però devo farlo ok adesso non aveva ancora poca vita però se facessi scendere poi lui si rigenererebbe andiamo in Spectator perché un'altra novità è che se vedete ora scendiamo nei meandri e potete notare una cosa che in effetti avevo criticato se ricordate ovvero il fatto che i geo di diametista finalmente non sono così frequenti ok adesso ne vediamo uno lì però penso che il prossimo sarà chissà quanto di distanza ok penso adesso non c'è scritto di quanti blocchi però spero molti di più scusate il lag però ragazzi sapete che dovete solo iscrivervi e lasciare like e il lag passerà sapete che dovete solo iscrivervi lasciando like e il lag passerà insomma il fatto che adesso siano meno rari beh è sicuramente meglio per i più tecnici invece siamo arrivati alla sezione tecnica semplicemente adesso io potrei andare a vedere andiamo qui sul sito ufficiale che vi lascio qua giù in descrizione l'articolo del 21w20a possiamo vedere che adesso c'è un nuovo tag nbt vale a dire è a fuoco questo è il tag seriamente per esempio se uno zombie prende fuoco dal sole o magari noi gli diamo fuoco semplicemente adesso niente c'è un comando per vederlo quindi possiamo sapere se diamo fuoco alla gente oppure no e poi ci sono veramente i soliti miliardi di bug fix che veramente sono ultimamente veramente tanti che vengono fixati però ok meglio così che non altro ragazzi io termino qui so che avete messo like è vero perché siete bravissimi lo so grazie mille se non avete fatto per favore fatelo e anche per oggi è tutto quindi ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti